Musica Noi diciamo sempre che questi esercizi sono per l'età 5-6 Ma quando vediamo che un bambino di 4-5 vuole può andare avanti perché no facciamogli riprovare anche a lui Proviamo a rendere la nostra schiena rotonda e andare in equilibrio Dobbiamo rotolare sulla nostra schiena Sei una palla Claudia quindi rotolo indietro e torno Io ho il microfono quindi rotolo male vai Due Brava Claudia Tre Ancora Quattro Bravissima Ancora due Buono Ancora uno Ok giù Prendi la tua bacchetta di nuovo e quindi ti sdrai E quindi prova gambe distese allunga bene la schiena Vi ricordo che questo arco è fisiologico quindi non costringiamo i bambini a non stare allungati Quindi portiamo la bacchetta sotto i piedi e appoggio le gambe distese con la bacchetta e di nuovo scavalco con i piedi la bacchetta e ritorno via e hop appoggio le gambe piano piano brava Claudia di nuovo hop e distendo le gambe Claudia le gambe molto lunghe vai Claudia usa bene l'addome e distendi ancora uno Ok torni giù seduta Claudia proviamo un po' a vedere quanto siamo lunghi con queste gambe mettiamo intanto la bacchetta e distendiamo dove arriviamo 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 vai tranquillo creare un po' di allungamento anche se i bambini un po' lo tengono poco eh cambio soltanto sfidarli vediamo un po' chi distende meglio le gambe E la via ci mettiamo con le gambe divaricate braccia in alto tocchiamo le punte dei piedi uno e torniamo su con le braccia due e ancora giù e su ancora appoggio giù e su se riusciamo a andare oltre i piedi siete bravissimi ancora due giù e su l'ultimo giù e su Claudia prendi la bacchetta con la mano destra che per voi è la sinistra e descriviamo un grande cerchio per terra e torniamo via lontano più grande il cerchio e meglio è ancora vai di nuovo via rimani di là a sinistra e alza cambio vai giro 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 e poi torno vai giro 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 Piegale leggermente, proviamo a pagagliare insieme e a destra e a sinistra, e a destra e a sinistra, ancora, provo un po' con le gambe sollevate e ancora, vai, sfidiamo sempre il loro corpo, ancora due, forza, uno, respiro, appoggio e stop. Grazie a tutti.